Buonasera mister, oggi una vittoria 3 a 0, 6 punti in due partite, cosa si sente di dire? Era un importante risultato, la prestazione poi ha accompagnato quello che è il risultato, è stata un'ottima gara soprattutto nei primi minuti dove abbiamo legittimato appunto il 3 a 0, poi col passare dei minuti ci siamo un pochettino abbassati forse un po' troppo senza correre grossi rischi, ma la gestione della gara comunque è stata ottima. Ecco oggi abbiamo visto in campo un ottimo Gas Barroni, quanto è importante un giocatore come lui di esperienza per la squadra? Un giocatore importante e fondamentale, ma come lo sono praticamente tutti della Rosa, è logico che lui è un tasso tecnico ma anche un'intelligenza calcistica che è al di fuori della norma, è di categoria superiore, quindi è un valore aggiunto di questa squadra, ma tutta la squadra comunque oggi si è comportata bene, sta facendo un ottimo lavoro, quindi con i singoli non si va da nessuna parte, quando tu lavori da squadra consapevole dei propri pregi, dei propri limiti, si possono fare ottime cose, noi lo stiamo facendo. Ecco, come preparerete le prossime partite di campionato? Ma come sempre, tanto ogni gara è a sé, il nostro obiettivo è quello di preparare la gara, la partita domenica per domenica, consapevoli che ogni domenica ci sarà una difficoltà, sono tutte squadre che hanno degli ottimi potenziali, sono organizzate, hanno dei buoni allenatori, quindi di conseguenza siamo consapevoli che ogni domenica sarà una battaglia.